Rappresenta un'opportunità, un futuro possibile per gli extracomunitari, oggi in Italia, nei loro paesi di origine. Si chiama Progetto NIRVA ed è al secondo anno, giovedì mattina, nella Sala Petruzzi di Via delle Caserme a Pescara, sessione informativa regionale, ritornare volontariamente per ricominciare il rimpatrio volontario assistito in Italia. In Abruzzo la rete di NIRVA, acronimo di Network Italiano per il rimpatrio volontario assistito, è guidata dalla Comune di Pescara, che svolge il ruolo di antenna regionale della rete NIRVA. Attraverso un'assistenza che parte dall'assistenza informativa, l'assistenza al viaggio addirittura, e attraverso un'assistenza sanitaria, qualora ce ne dovesse essere bisogno, e il rinserimento significa anche poter usufruire di fondi per poter, nel luogo loro di origine, poter reinserirsi attraverso nuove attività con un sostegno economico, ripeto, da parte dell'associazione. Questo progetto è cofinanziato dall'Unione Europea, dal Ministero dell'Interno, e attuato dall'AICRE, che sarebbe l'associazione italiana del Consiglio dei Comuni ed Europa, dal CIR, Consiglio Italiano per i Rifugiati, perciò è un progetto ad ampio raggio.